Ci sono a Buenos Aires, dei luoghi che appartengono alla città più di altri, ma a tarda notte. Quando il rumore infernale si appieta poco a poco, ecco apparire l'altra faccia della medaglia su Corrientes. Sono i raccoglitori di carta e di cartone, i cartonerosi. Grazie a tutti. 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 Il Tanno nasce circa cento anni fa nel rio della Plata, ma non tra i ricchi e i borghesi, pensi tra la popolazione più povera, nelle baracche misere degli immigrati e in locali dove la malavita regna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.